Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. All'interno di questo video voglio darvi qualche idea per realizzare dei pensierini natalizi che secondo me sono facili e veloci appunto da realizzare, ma nel caso qualcuno volesse acquistarli sono anche disponibili all'acquisto. Ovviamente non tutto quello che vi mostrerò sarà disponibile, ma potete contattarmi in privato e vi dirò appunto quali di queste sono disponibili. Allora parto subito con quest'idea che veramente io ripropongo ogni periodo natalizio perché sono veramente bellissimi e si tratta appunto di orecchini leggeri fatti ad angioletto. Questi qui sono veramente leggerissimi, realizzati con delle gocce effetto perla e delle perle cerate e con queste ali color bronzo. Ho voluto abbinare il tutto appunto a una minuteria color bronzo con le ali abbinate e ne ho realizzati di diverse tipologie. Questi qui nello specifico li ho realizzati anche con la goccia un po' più piccolina, quindi c'è la goccia lunga e la goccia corta, sempre con le ali bronzo. Poi ho realizzato sempre con le perle questa tipologia qui con le gocce corte e le gocce lunghe, ma con queste ali trasparenti che devo dire rendono il tutto un po' più angelico. E quindi appunto queste sono altre due varianti con la minuteria argentata. Poi ne ho realizzati altri, questi qui in realtà sono quelli che avevo proposto tanto tempo fa e li ho realizzati di nuovo nel viola con questa sfera color fucsia e sempre le ali bronzo. E ne ho realizzati un'ultima serie, quindi una mini collezione di angioletti con le ali bronzo, ma con il rosso e con le ali trasparenti. Quindi i componenti sono gli stessi, tranne per le ali e per la minuteria, che in questo caso è bronzo, come vedete, e in questo caso è argento e trasparente. Quindi questi qui, insomma, sono gli angioletti che ho realizzato e secondo me sono delle idee regalo veramente molto molto carini. Pensierini economici che si possono acquistare per le proprie amiche oppure da indossare durante le feste di Natale. Oltre agli angioletti ho realizzato anche questi qui che sono in pratica dei mini alberelli di Natale e li ho realizzati con il viola, qui non si vede bene sul nero, magari ve lo stacco, eccolo qui. Con il viola e l'argento sono dei mini alberelli di Natale e ne ho realizzati altri ancora più mini con la monachella color rame e i mezzi cristalli verdi e il cubetto rosso. Quindi sono veramente super mini. Di questi, se non mi sbaglio, c'era anche il tutorial sul mio canale YouTube, ve lo lascio nell'info box e nella descrizione, come sempre. Quindi anche questi sono veramente carini come idea e si possono realizzare ovviamente nei colori che preferite. Poi ho realizzato questo segnalibro qui, sempre con l'alberello di Natale, anche questo è un pensierino di Natale molto molto carino da fare, economico e utile perché può essere utile appunto per chi legge. Da inserire all'interno di un libro durante le feste di Natale. Ho preso una vecchia agenda per farvi vedere un pochino l'effetto. Al di fuori esce in questo modo praticamente e il segnalibro si va a inserire alle estremità del libro per portare il segno. Ultima novità per la mini collezione natalizia, ma non solo, è questa qui. È una mini collezione composta da orecchini con i cornetti. Quindi c'è questa che è disponibile da acquistare su Amazon ad un prezzo lancio. Vi lascio il link sempre nell'info box. Questi sono questi qui con il cornetto smaltato rosso e dorato. Quindi le monachelle sono in acciaio inox 316. Questi qui invece che mi sono stati già prenotati sono con un orecchino a cerchio con il cornetto sottostante. Ultimamente vanno molto di moda gli orecchini a cerchio e quindi ho voluto fare anche questa variante qui. Ma non poteva mancare anche una variante con le monachelle in argento 925. E quindi ho realizzato anche la variante con le monachelle in argento 925 e il cornetto argentato. Quindi queste sono le mie idee per i pensierini di Natale. Economiche belle da vedere, facili da realizzare. Quindi spero di esservi stata utile. L'ultima cosa che voglio mostrarvi è questo qui, che è un fiocco di neve che ho realizzato qualche giorno fa, una sera. L'ho utilizzato come decorazione appunto per la mia scrivania e devo dire che mi piace tantissimo. Si possono appendere sia vicino ai pomelli dell'armadio oppure vicino al balcone, insomma hanno molteplici funzioni oppure come decorazione per l'albero. Perché no? Sono veramente bellissimi e nel caso ne faccio appunto altri. L'anno prossimo sicuramente li metterò sull'albero di Natale perché danno molta luminosità. Questo è molto molto grande, però ho intenzione di fare anche qualche fiocco di neve un po' più piccolino. Nel caso vi possa interessare il tutorial di questo fiocco di neve fatemi sapere che lo realizzo per voi. Quindi questo è tutto. Io con le mie mini collezioni di cornetti portafortuna che non fanno mai male e di angioletti natalizi. Vi salutiamo e anche gli alberelli, altrimenti si prendono collera come si dice da me. Vi salutiamo, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video e ci vediamo presto. Un bacione e alla prossima. Ciao!